Si ritroveranno dinanzi a Palazzo Sant'Agostino nella mattinata di domani. Gli studenti del liceo Genovesi da Vinci di Salerno chiederanno di poter incontrare il presidente della provincia Franco Alfieri. Un incontro richiesto a pochi giorni dall'inizio del nuovo anno scolastico che gli studenti del liceo di Via Principessa Sigelgaeta vogliono a tutti i costi per vedersi restituiti alcuni spazi vitali per poter svolgere le proprie attività didattiche. Cinque aule dell'Istituto Salernitano infatti non sono più a disposizione degli studenti del Genovesi da Vinci ma vengono invece utilizzate da quelli del liceo Regina Margherita e dell'Istituto Nautico di Salerno. Un problema serio quando ormai manca pochissimo alla ripresa delle attività didattiche perché di quelle aule ha bisogno il liceo di Via Sigelgaeta a fronte delle iscrizioni, tante che si sono registrate quest'anno. Secondo quanto riferito dalla dirigente scolastica Lea Celano, le prime nuove classi sono sei, un numero importante di studenti dunque che inizieranno a frequentare gli spazi del liceo e per i quali c'è bisogno di un numero di aule superiori. Aule che, come comunicato dalla dirigente nei giorni scorsi, sembrava potessero ritornare nella disponibilità del liceo Genovesi da Vinci. Oggi invece la comunicazione è contraria, di cui la decisione di organizzare un presidio dinanzi alla provincia di Salerno nella giornata di domani per chiedere la restituzione di quegli spazi. Ad una settimana dall'inizio del nuovo anno scolastico si ripropongono così le solite criticità sul fronte della gestione degli spazi nelle scuole salernitane, spazi che scarseggiano, un fatto con cui devono fare i conti dirigenti e studenti. Se le aule non dovessero tornare nella disponibilità del liceo Genovesi da Vinci, si dovrà pensare ad un'organizzazione alternativa delle attività didattiche e non verrebbe neanche esclusa l'ipotesi di lezioni ed attività spalmate su doppi turni.